e imploro dal Signore su di voi, sulle vostre famiglie, sull'intero sodalizio dei Facchini e sulla nostra città di Viterbo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi, sia benedetto il nome del Signore, il nostro aiuto è nel nome del Signore per intercessione di Santa Rosa, nostra Patrona, vi benedica e vi protegga, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo e evviva Santa Rosa, ma anche evviva Santa Barbara e ci vuole